Come caricare un video su YouTube? Maledettamente bene! Sì, perché andiamo a vedere i dettagli, andiamo a vedere tutte quelle finezze che è bene sapere quando carichiamo i nostri video su YouTube. Andiamo a vedere quelle cose che potrebbero fare anche la differenza tra il nostro video e quello del nostro competitor. Insomma, cerchiamo di fare in modo che con questo video sapete tutte le impostazioni, tutte le cose, le andiamo a vedere proprio una per una, ve le spiego per bene, tutte le cose che dovete sapere quando caricate i vostri video su YouTube. Vediamo sia la versione non monetizzata, che è la maggior parte dei casi, se in questo momento avete creato un canale da poco, e poi andiamo a vedere anche una piccola versione monetizzata, se avete già la monetizzazione attiva. Vi informo che ci sono molti video collegati a questo video e allora ve li ho raccolti tutti in una comoda playlist che trovate nella descrizione. Infine, se volete migliorare la vostra comunicazione digitale, beh, su Ciraulo.me trovate le risorse gratuiti, i corsi, i coaching e pure le consulenze. Che dire, è arrivato il momento di caricare il nostro primo video su YouTube. Ed eccoci qua, siamo in YouTube, questo è il canale Il Paradiso della Brugola, il canale fittizio che abbiamo creato nel precedente video, quello su come si crea un canale YouTube, vi ricordo che tutti i video sono nella playlist in descrizione. E vi faccio notare che già dall'interfaccia di YouTube abbiamo il tasto per caricare video. Eccolo qua in alto a destra, ma non soltanto perché siamo nel nostro canale e qui che andremo poi a caricare il video, ma anche nell'interfaccia di YouTube normale, quindi ipotizziamo nell'home page, ma anche in qualsiasi video che noi stiamo guardando, qui in alto a destra abbiamo sempre il tasto per caricare un video. Prima di premerlo, però voglio andare nello YouTube Studio, quindi menu in alto a destra YouTube Studio, che è dove andiamo a impostare il nostro canale e a verificare tutti i nostri video, per farvi notare che nelle impostazioni, in basso a sinistra, eccolo qua il tasto, abbiamo le impostazioni predefinite video caricati. Qui ci sono tutte le impostazioni che vedremo successivamente nel caricamento del video, ma voi potete impostarle già di default e voi potete decidere che nel momento in cui caricate un video ci sia già un determinato titolo, una determinata descrizione, ma anche tutte, no, beh tutte no, la maggior parte delle cose che vedremo successivamente, voi le potete impostare di default, così che nella maggior parte dei casi non dovrete fare delle modifiche, ma eventualmente andate a modificare solo nei video in cui è necessario. Per esempio, impostazioni avanzate, la licenza YouTube standard, è una roba che non dovrete mai cambiare probabilmente, allora voi potete impostarla qua, così come la categoria eventuale dei vostri video, la lingua dei video, la gestione dei commenti e così via, insomma. In questa maniera voi andate a impostare già le cose di base del video, così dovete impostarne di meno nel momento in cui caricate il video stesso. A questo punto, sempre da YouTube Studio, noi possiamo andare a cliccare su Crea, è lo stesso tastino che abbiamo visto prima. Sempre qui in alto a destra, sia che siamo nello studio di YouTube, sia che siamo in YouTube, funziona allo stesso modo. Andiamo a cliccare su Crea e andiamo a cliccare su Carica video. Qui andiamo a trascinare i video che vogliamo caricare oppure clicchiamo su Seleziona file per andarli a cercare nel nostro computer. In questo caso io vado a prendere una cartella con dei video all'interno, prendo il video che voglio trascinare, che voglio caricare e lo trascino in questa interfaccia. Mi raccomando, posso anche caricare più di un video per volta. L'unica cosa fondamentale se carico più di un video per volte è che poi devo andare a cliccare su ognuna delle bozze per attivare il pannello che vedremo tra poco. In questo caso vado a caricare uno solo di questi video, lo trascino nell'interfaccia e vedete che questa animazione mi fa capire che le cose hanno funzionato. In questo momento, chiudiamo un po' di cose, in questo momento io vado a impostare le informazioni del video. Vi faccio notare che qua non ci sono le impostazioni sulla monetizzazione. Perché? Perché questo canale non ha ancora la monetizzazione attiva. Se vi interessa anche la parte di monetizzazione, seguite il video fino alla fine perché dopo che ho impostato questo video non monetizzato vado a farvi vedere anche la parte di monetizzazione, ma se avete aperto da poco un canale YouTube probabilmente non avete ancora la parte di monetizzazione attiva. Quindi andiamo a inserire il titolo. In questo caso YouTube come titolo ci prende il titolo, il nome del file. Andiamo a inserire la descrizione del video e andando sotto andiamo anche a inserire la miniatura. Molto bello che YouTube, vedete, ci trova già delle possibili miniature che potrebbero essere belle dal fermo immagine del nostro video. Se non ci piace nessuna di queste miniature possiamo naturalmente anche andare a caricare la miniatura andandola magari a fare con Canva, con Photoshop, con Gimp, con Affinity Photo, insomma con quello che ci pare. Vi linko nella playlist, quella che trovate in descrizione, vi metto anche il video su come fare le copertine con Canva, così almeno sapete fare anche questa cosa qua. Andando ancora sotto abbiamo la possibilità di inserire il video in una playlist, in questo caso potremmo inserirlo o anche in più di una playlist naturalmente nella playlist chiavi e possiamo anche creare una nuova playlist sul momento. Per esempio cacciavite, rendiamo pubblica la playlist in questo caso, e non il video, mi raccomando, e clicchiamo su Crea. Benone, abbiamo inserito il video nelle playlist. Andiamo a impostare che tipo di pubblico ha questo video. È molto importante questa cosa perché se il video è destinato ai bambini bisogna indicarlo come destinato ai bambini. Ma attenzione, se il video non è destinato ai bambini non indichiamo assolutamente il video come destinato ai bambini perché perderemo delle funzionalità. Per esempio, non potremo monetizzare il video, ma non potremo neanche attivare i commenti. Quindi, certo, se il video è per bambini dovete indicarla questa cosa qua perché sennò rischiate di incorrere in sanzioni di YouTube. Diversamente, non fate come vedo fare a volte che se il video mai potrebbe interessare ai bambini, pensiamo a una ricetta per esempio, beh, no, non indicatela per bambini perché sennò perdete delle funzionalità. Potete anche eventualmente, andando a cliccare su limite di età, andare a definire se il video deve essere destinato soltanto ad un pubblico adulto, quindi con più di 18 anni, oppure se il video è visionabile anche da chi ha meno di 18 anni. Un'altra cosa fondamentale è cliccare su mostra altro per andare a impostare tutte quelle impostazioni aggiuntive avanzate del vostro video. Per esempio, se il video include una promozione a pagamento, per esempio un video sponsorizzato, allora in questo caso indicatelo così, con questo check. Il video contiene promozione a pagamento. Non cambia nulla al vostro video, non cambia alla fruizione del video, alla diffusione del video. È soltanto perché in questo modo YouTube aggiungerà all'inizio del vostro video l'avviso include promozione a pagamento e mi sembra una cosa assolutamente corretta e molto etica nei confronti di chi vi segue. Potete abilitare la creazione dei capitoli automatici. Voi sapete che in YouTube, chiedo scusa, sapete che in YouTube c'è la possibilità di creare i marcatori di capitolo. C'è un video dedicato su questo argomento, ve lo metto anche questo nella playlist, oppure potete fare in modo che YouTube in alcuni casi non lo fa sempre e lo faccia in automatico. Direi che non ci sono svantaggi, quindi tenete sempre abilitata questa opzione. Poi possiamo consentire automaticamente l'inserimento dei luoghi. Per esempio, ci dice YouTube che se noi menzioniamo un luogo particolare come un ristorante o magari anche un luogo pubblico particolarmente rilevante, YouTube potrebbe inserirlo all'interno del vostro video, così che le persone interessate a quel luogo poi trovino il vostro video. Questa cosa qua viene in automatico. Disabilitatela soltanto se magari voi citate dei posti che non volete siano riconosciuti da YouTube e dal suo algoritmo. Quindi in quel caso eventualmente lo disabilitate. Poi ci sono i tag del video. I tag servono. Guardate, ve lo dice YouTube. Prima che si crei confusione su questa cosa qua dei tag, che un sacco di principianti pensano che i tag siano particolarmente utili per la SEO, per la Search Engine Optimization. Non è vero. Sono perfettamente inutili per la SEO. I tag servono solo. Lo dice YouTube. se i contenuti del tuo video sono scritti in modo errato. Quindi in questo caso eventualmente mettete tutti i vari spelling del vostro, del possibile contenuto. Che ne so io. Andrea Ciraulo. Io potrei mettere qui nei tag Andrea Circolo, perché molte volte le persone lo confondono con Circolo. Oppure altri modi sbagliati di dire il mio nome, il mio cognome. Pensate a Arnold Schwarzenegger. Chissà quanti errori vengono commessi. Ecco, in questo caso allora conviene mettere tutti gli errori dello spelling. Oppure anche, aggiungo io magari, dei sinonimi. Per esempio, che ne so io. Se io faccio un video sulle miniature dei video di YouTube potrei inserire copertine video YouTube nei tag. Ma in realtà YouTube è già molto bravo a riconoscere i sinonimi. Quindi probabilmente questa cosa qua servirà ben poco. Io vi dico la verità, i tag li lascio sempre rigorosamente vuoti in tutti i video. E insomma, si può dire di certo che i miei video si posizionano molto bene nei risultati di ricerca di YouTube. Quindi probabilmente i tag non servono davvero così tanto. Lingua e sottotitoli. La lingua del video la indichiamo nella maggior parte dei casi come in italiano. Certificazione dei sottotitoli in realtà serve soltanto per delle leggi degli Stati Uniti che hanno a che fare con gli Stati Uniti. Quindi se caricate dei video che i cui sottotitoli sono stati presi da delle trasmissioni televisive statunitensi, vi interessa questa roba qua. Se no, non ve ne frega assolutamente niente. Lasciate nessuno e vivrete assolutamente felici. Eventualmente potete inserire la data in cui è stato registrato il video e il luogo in cui è stato registrato il video. Nel mio caso lascio sempre vuoti queste due informazioni. Alcuni utenti potrebbero ricercare per data di registrazione, luogo di registrazione. Pensiamo a un evento storico per cui che ne so io, la finale dei mondiali o una partita di calcio, voi potreste dire che il video è stato registrato in quella data, in quel luogo, così chi cerca la data e il luogo trova esattamente il vostro video insieme agli altri che hanno abilitato la stessa impostazione. La licenza. Potete inserire la licenza standard di YouTube oppure una licenza Creative Commons con attribuzione. Potete cliccare qui per capire meglio. Vediamo se non mi apre. Eccolo qua. Lo apriamo in una nuova scheda. Per capire meglio come funzionano le licenze Creative Commons. E poi potete decidere se consentire l'incorporamento. Avete presente quando i video vengono mostrati all'interno di un sito web? Beh, potete consentire quella roba là oppure impedirla. E poi potete decidere. Questa funzione è molto molto utile. Io la utilizzo molto spesso. O meglio, la disabilito in alcune occasioni. Pubblica nel feed iscrizioni e invia una notifica agli iscritti. Cioè voi potete evitare che i vostri video vadano a ingolfare il feed iscrizioni o arrivi la notifica ai vostri iscritti. Per esempio, se dovete pubblicare un miliardo di video non particolarmente rilevanti, ma che per voi ha un senso che siano pubblicati, beh, in questo caso disabilitate questa funzione. Ad esempio, questa cosa qua la faccio su video molto molto specifici. Che ne so, io di recente ho fatto un video sui plugin di Obsidian oppure un altro video sulle immagini HTML. Beh, in questo caso io ho disabilitato la pubblicazione nel feed dell'iscrizione e la notifica così da non disturbare i miei iscritti e non incentivare le disiscrizioni dal mio canale. Stessa cosa potete fare voi. Potete consentire il campionamento del video negli short. Quindi permettere alle persone che taglino un pezzettino del vostro video per crearne uno short. Questa cosa qua in linea di massimo è molto utile perché poi si rimanda, cioè lo short rimanda al video completo per chi lo volesse guardare. Per cui io vi suggerisco di mantenere questa impostazione attiva. Scegliete la categoria del vostro video. Purtroppo le categorie sono molto risicate. Non ci sono davvero tutte le categorie. Per esempio, io non ho la categoria tutorial al loro utilizzo di solito. Fai da te stile oppure istruzione. Voi decidete in base a qual è la categoria che più si avvicina al vostro video con la consapevolezza che la categoria serve davvero a poco. Non vi cambierà davvero la vita nella diffusione del vostro video. Scegliamo poi come gestire i commenti. Possiamo consentire tutti i commenti indiscriminatamente oppure, come faccio io, si trattengono per la revisione i commenti che potrebbero essere inappropriati. Sostanzialmente sono quelli che contengono dei link in linea di massimo. Magari alcune parole proprio super mega bannate. Però a me capita molto raramente. Il più delle volte è una questione di link oppure che youtube lo riconosce come un commento di spam. Oppure possiamo, eventualmente aumentando la severità di questo algoritmo, però vi dico che nel mio caso, semplicemente con questa impostazione che quella che utilizzo io va più che bene. YouTube mi trattiene soltanto quelli con dei link. Succede spesso per esempio che le persone linkino ai loro video. A me questa roba qua dà un po' fastidio perché se ti vuoi fare la pubblicità fatela almeno bene. Semplicemente non commentare linkando il tuo video. Allora in questo caso io preferisco trattenere per revisione e non pubblicare poi il commento. Potreste eventualmente trattenere per la revisione tutti i commenti. Questa cosa qua fatela soltanto se portate un argomento molto controverso e se potete permettervelo che avete quindi poco pochi commenti oppure potete semplicemente disattivare i commenti. Non è una cosa diciamo ufficiale quella che vi dico è più una sensazione personale. Non so quanto reale, quanto confermata dai fatti. Diciamo che tendenzialmente io sospetto che disattivare i commenti rende il video un pochino meno appetibile per l'algoritmo di YouTube per cui se non ci sono delle ragioni io eviterei, non lo farei. E poi decidete come ordinare i commenti. L'utente poi può cambiare comunque questa ordinazione per sé ma se mettere prima i commenti più rilevanti oppure semplicemente metterli in ordine dal più recente. Infine potete decidere se mostrare il numero di mi piace al vostro video. Vi ricordo che il numero di non mi piace sarà sempre nascosto ed è una buona cosa secondo me perché il non mi piace è proprio una funzione che veramente faccio fatica a mandare giù ma voi potete decidere se mostrare o meno il numero di mi piace al video. Ha senso sicuramente mostrarlo questo valore. Una volta che avete impostato tutto quello che riguarda la tab dettagli, eccola qui è la prima delle quattro che dovremo gestire, andiamo avanti e andiamo a modificare eventualmente i sottotitoli, la schermata finale e le schede. Per quanto riguarda i sottotitoli possiamo aggiungere i sottotitoli al nostro video. Possiamo farlo caricando un file di sottotitoli. Possiamo scegliere di inserire un testo, cioè la trascrizione del nostro video e lui andrà in automatico a sincronizzarlo con il parlato. Oppure possiamo inserire proprio a manina i sottotitoli uno per uno. È veramente una cosa molto tediosa che non credo abbiate voglia di fare se non in casi eccezionali. Potrebbe essere utile anche inserire i video, i sottotitoli, chiedo scusa, in più lingue andando eventualmente a caricare più file. Poi, chiudiamo qua, possiamo andare a aggiungere una schermata finale. Possiamo andare a importarla da un video precedentemente caricato. È quello che faccio io. Di solito tengo le schermate finali sempre uguali e ogni volta vado a importare dal video precedente. Oppure possiamo andare a aggiungerle a manina. Cos'è la schermata finale? È quella che vi mostra, vedete, il tasto di iscrizione ed eventuali altri video alla fine del vostro video, negli ultimi 25-20 secondi di video. Negli ultimi 20 secondi di video. Eccolo qua, lo sto vedendo nella timeline qui sotto. Possiamo scegliere una configurazione di queste di default, per esempio questa, con un video e il tasto di iscrizione. Vedete che qui sotto possiamo impostare anche il momento in cui appaiono e possiamo decidere anche, andando a selezionare, che cosa mostrare in questa scheda. Quindi il video caricato più di recente, il video più adatto allo spettatore, un video specifico, ma anche altre cose che potrebbero essere una playlist, un canale. Per esempio, se avete un video in collaborazione con qualcuno, potreste mettere il suo canale come qui, schermata finale, una playlist particolare o eventualmente il tasto di iscrizione, l'ho già fatto, oppure un link esterno. Ma in questo caso bisogna abilitare questa funzione. Annulliamo le modifiche in questo caso e vi faccio vedere che potete anche aggiungere le schede, che sono quel tastino informativo che trovate, non so mai da che lato dire, credo che sia da questo lato. Lo dovreste trovare lì in fondo, quel tastino informativo che può avere diversi link ai vostri video, oppure playlist, oppure ancora altri canali o link esterni, se attivate il programma partner di YouTube. Semplicemente cliccate su video, scegliete il video da mostrare ed ecco che lo vedrete, vedete qui in alto a destra sotto la i di informazioni. Annulliamo anche questa modifica, andiamo avanti. Qui YouTube ci dice che ha effettuato dei controlli al nostro video e che è tutto a posto. Qui troviamo i controlli di copyright, quindi se il nostro video non infrange alcuna regola di copyright, perché magari abbiamo preso delle musiche oppure degli altri video di YouTube, mi raccomando, attenzione, non fate troppo affidamento su questo controllo perché a volte le vere e proprie verifiche di copyright richiedono più tempo, per cui in questo caso magari voi aspettate sempre un paio d'ore prima di pubblicare il video, così che i controlli vengono fatti in maniera approfondita. Inoltre qui troverete anche gli eventuali controlli per la monetizzazione passata o meno, ma questo lo vediamo tra poco verso la fine di questo video. Infine cliccando su avanti ecco che andiamo a impostare le impostazioni, scusate il gioco di parole, di visibilità, cioè noi indichiamo il video come privato, quindi lo vediamo soltanto noi ed eventuali persone che invitiamo personalmente con il loro indirizzo email, account, Google a vedere il video, oppure lo mettiamo non in elenco. Questa è impostazione che vi suggerisco nel momento in cui caricate il video, cioè soltanto chi ha questo link che troviamo qui in basso destra può vedere il video, oppure mettiamo il video subito come pubblico. Io vi suggerisco di metterlo, ed è la stessa cosa che vi suggerisce di fare YouTube, vi suggerisco di metterlo come non in elenco per qualche ora, così che YouTube effettui tutte le varie verifiche e poi lo mettete come pubblico dopo che le verifiche sono state effettuate. Se lo mettete come pubblico potete impostarlo eventualmente come premiere istantanea, cioè voi potete guardare il video insieme ai vostri utenti e potrete interagire nella chat come se fosse una diretta ma di un video già registrato. L'interazione è la stessa delle persone, oppure potete programmare questo video, quindi scegliete la data di pubblicazione, l'orario di pubblicazione, che ne so io facciamo l'8 di dicembre alle ore 14 e in questo caso potete decidere se programmare il video in questa maniera nessuno saprà dell'esistenza di questo video fino a questa data qua, oppure lo impostate come premiere e quindi le persone vedranno il vostro video come programmato e il giorno in cui sarà disponibile pubblicamente, il video comincerà come premiere. Proviamo a usare l'italiano se riusciamo. Eventualmente andate anche a configurare la premiere ma su questa cosa qua ci facciamo magari un video dedicato per non andare a perdere troppo tempo. Il concetto è che potete impostare il conto alla rovescia, la durata del conto alla rovescia ed eventualmente il trailer e tutti gli altri dettagli della premiere in base a quali di questi sono stati abilitati sul vostro canale. Una volta che abbiamo fatto tutto questo clicchiamo su programma o su pubblica insomma adesso magari facciamo così lo mettiamo come pubblico anzi mettiamolo come non in elenco che vi faccio vedere una cosa che youtube vi fornisce già il link del vostro video cliccando su questo tastino il tastino copia voi vi copiate il vostro link salviamo adesso il video andiamo con la navigazione in incognito e incolliamo ecco fatto il nostro link quello che abbiamo copiato prima e vedrete che eccolo qui ci ritroviamo già il nostro video adesso qui dobbiamo accettare perché stiamo navigando in incognito ed ecco qua il nostro video voilà esattamente caricato su youtube e ci siamo abbiamo caricato perfettamente il nostro video vi ricordo che potete anche caricare in massa in questo caso se li caricate in massa i video vi faccio notare soltanto una cosa andiamo in contenuti ve li troverete tutti qui come bozze quindi contenuti come bozze cliccate e andate eventualmente a impostarli tutti come abbiamo appena fatto ora che abbiamo visto alla perfezione come caricare un video su youtube per tutti coloro che hanno già la monetizzazione attiva andiamo sul mio account personale dove attiva la monetizzazione e vi faccio vedere molto rapidamente come si imposta anche quella parte bene siamo sul mio canale andrea ciraulo dove la monetizzazione attiva e vi faccio notare che effettivamente avendo caricato di nuovo il video nel mio canale questa volta ecco che abbiamo qui in alto la monetizzazione attiva abbiamo una scheda in più tutto il resto sarà uguale ma in più ci sarà la scheda monetizzazione prima di andare a cliccarla vi voglio far vedere però che ho dimenticato nel capitolo precedente di farvi vedere che eventualmente io posso andare a riprendere le impostazioni di un video precedente cioè se io so che tutte le cose o almeno le principali saranno già uguali a un altro video che ho pubblicato allora io clicco su dettagli di riutilizzo e vado a scegliere il video da cui voglio prendere le impostazioni che ne so io prendiamo questo ed ecco che lui ci dice che cosa vuoi andare a ricopiare il titolo la descrizione le playlist la lingua il campione le impostazioni di campionamento per gli short oppure la categoria in questa maniera io velocizzo un pochino la procedura andiamo però finalmente su monetizzazione e andiamo ad attivare la monetizzazione per cui all'interno di questa tab scegliamo se attivare o disattivare la monetizzazione se la disattiviamo non dobbiamo fare nient'altro monetizzazione disattivata se la vogliamo attivare però clicchiamo su fine e andiamo a indicare a youtube dove posizionare gli annunci quindi gli annunci nella barra laterale di youtube gli annunci sopra al video gli annunci nelle schede oppure i più famosi e diciamoci la verità per alcuni seccanti però è così che si che si mantiene così che si sostiene questo modello di business gli annunci video quelli che si vedono prima durante o dopo il vostro video di due categorie quelli che si possono ignorare oppure quelli per cui non si può cliccare su ignora finché non si è guardata tutta la pubblicità li attiviamo tutti o quelli che vi interessa attivare nella maggior parte dei casi non c'è ragione per disabilitarne alcuni e scegliamo dove mettere i video e le pubblicità chiedo scusa prima del video durante il video dopo il video se io scelgo durante il video posso anche andare a definire la posizione cliccando su gestisci mid roll in questo caso non possiamo modificare queste impostazioni perché il video che stiamo pubblicando ha una durata troppo breve per cui metterà la pubblicità soltanto prima o dopo il video non durante eventualmente se abbiamo un video della durata nel momento in cui registro questo video superiore a 8 minuti ma potrebbe cambiare questo valore quindi assicuratevi sempre sul momento cliccando su scopri di più eventualmente oppure probabilmente sarà segnalato direttamente qua nell'interfaccia di youtube in quel caso cliccando su gestisci mid roll andate a definire la posizione esatta in cui mostrare le pubblicità tendenzialmente io lascio sempre fare youtube perché trova le impostazioni migliori in base al pubblico ma anche in base alla tipologia di video che ho pubblicato e trova anche la posizione migliore nel video con l'intelligenza artificiale quindi non avete motivo di andare a modificare queste impostazioni a meno che magari come in alcuni casi non stabilite già anticipatamente all'interno del vostro video dei momenti specifici in cui ci sono gli stacchi pubblicitari magari addirittura le annunciate allora in quel caso andate a inserire le pubblicità direttamente in quegli stacchi lì una volta che avete attivato gli annunci vi faccio notare che è uscita fuori un'altra scheda quindi oltre a monetizzazione adesso abbiamo anche idoneità annunci allora clicchiamo su avanti e andiamo a impostare anche questo in poche parole youtube ci sta dicendo dici se il tuo video ha degli elementi particolari che potrebbero dare fastidio ad eventuali inserzionisti particolari in questo caso è molto utile andare a dichiararlo all'interno di questo elenco per esempio se il vostro video ha dei utilizzo un linguaggio inappropriato per cui un linguaggio leggermente volgare quindi non delle parole particolari oppure un linguaggio volgare nel titolo nella nella miniatura oppure un linguaggio estremamente volgare quindi le keyword proprio assolutamente bannate da youtube le vedete scritte qui preferisco non citarle in questo caso sappiate che se impostate questa impostazione riceverete pochissimi annunci nel vostro video mentre se magari definite un'impostazione di questo tipo vedete che riceverete molti più annunci se non tutti molto probabilmente io vi suggerisco di non prendere alla leggera queste questi settaggi perché youtube potrebbe diversamente crearvi qualche problema quindi se dite qualche parolaccia indicatela tanto nella maggior parte dei casi gli annunci li riceverete allo stesso maniera per esempio io in passato ho fatto un video sul sexting un video naturalmente assolutamente divulgativo che non aveva nessuno scopo diciamo così sessuale o pruriginoso e in questo caso io avevo indicato comunque il video con un contenuto per adulto una di questo tipo cioè discussioni su relazioni o sessualità senza riferimenti ai rapporti sessuali perché in quel caso si parlava sia di sessualità ma in maniera non esplicita e quindi avevo indicato il video in questa maniera il video è stato tranquillamente monetizzato senza nessun problema andate a guardare tutte le altre impostazioni di monetizzazione e alla fine se non c'è nessuna cosa da segnalare allora andate a indicare con nessuno dei contenuti precedenti in questo caso attenzione che vedete che ho disabilitato anche i due che avevo impostato quindi se ne impostate alcuni segnateli se no indicate come nessuno una volta che avete fatto cliccate su invia la valutazione molto importante se cliccate su avanti vi ferma vedete perché dovete ricordarvi di inviare ufficialmente la vostra valutazione autovalutazione del vostro video e una volta che avete effettuato anche questo passaggio cliccate su avanti il resto l'abbiamo già visto e quindi ora che abbiamo visto anche la monetizzazione del video abbiamo visto davvero tutto sappiamo davvero tutto su come caricare un video su youtube e allora abbiamo visto come caricare bene i nostri video su youtube se volete approfondire tutti i vari sotto argomenti tutte le cose che ci siamo detti cavoli questa cosa qua va approfondita ma lo facciamo successivamente allora nella descrizione trovate la playlist con tutti i video collegati a questo video così almeno aumentate le vostre competenze nella nella gestione del vostro canale youtube se poi volete migliorare di brutto la vostra comunicazione digitale beh venite su ciraolo punto me che il mio sito internet dove trovate risorse gratuite corsi coaching consulenze e chi più ne ha più ne metta io vi ringrazio molto per aver seguito questo video fino a qui e prima di perdere definitivamente la voce vi mando un grosso abbraccio e un saluto ciao e è è è e è è è è è Grazie.